Al via i saldi estivi nelle Marche, la data del 3 luglio è stata fissata in quasi tutte le regioni per rendere omogeneo sul territorio nazionale l'inizio delle vendite di fine stagione. A Fano, il Comune e le associazioni di categoria hanno deciso di riproporre per l'occasione la Notte dei Saldi, un'iniziativa che può rappresentare una boccata d'ossigeno per le attività economiche del centro storico. Abbiamo bisogno di riprendere il ritmo, sappiamo che dobbiamo essere molto attenti ancora alle condizioni della pandemia ma abbiamo bisogno di far lavorare le attività economiche, di riprendere il ritmo e questa può essere una bellissima serata. Ci saranno i saldi, nel centro storico ci sarà anche un po' di musica e quindi insomma riniziamo a comprare come prima, compriamo locale, compriamo nei negozi di vicinato, nei negozi di quartiere, insomma la città ha bisogno di ripartire e per ripartire abbiamo bisogno ognuno di noi insomma di avere delle economie da spendere. I saldi, ha proseguito l'assessore, aiutano le attività, soprattutto quelle medio-piccole che di più hanno risentito delle chiusure e delle restrizioni provocate dalla pandemia. Quindi tutta la giornata ma soprattutto la serata dalle 21 a mezzanotte e sarà in questa occasione aperta anche la caserma, noi ci aspettiamo insomma che tutti i nostri concittadini vengano a sostenere un po' le nostre attività economiche che hanno bisogno appunto di sostegno. Durante la pandemia sicuramente abbiamo riscoperto la socialità, proprio l'andare nei negozi, il rapporto umano con il commerciante, quindi il cliente che viene nelle nostre botteghe e credo che questo sia fondamentale, cosa che l'online non ti può dare. Gli sconti partono in anticipo, ha poi sottolineato Stefano Mirisola. Nei magazzini c'è ancora tanta merce in venduta anche a causa dell'emergenza sanitaria e quindi la notte dei saldi rappresenta un'occasione per i clienti ma anche per i commercianti che guardano all'evento con entusiasmo. L'importante è la soddisfazione del cliente finale, è un momento per la ripresa, un momento in cui la gente può trovare davvero occasioni molto importanti, speriamo che ci sia la massima adesione da parte dei cittadini sia per questo sabato sia comunque per tutto il periodo dei saldi. Abbiamo bisogno come attività commerciali della vicinanza di tutti, quindi un momento per fare un buon acquisto a un prezzo vantaggioso e allo stesso tempo un modo per riuscire a sostenere i nostri colleghi commercianti.